Sono 6.545 i visitatori che hanno deciso di approfittare della pausa di Ferragosto per visitare i musei reali di Torino, con le sue collezioni e le varie mostre in corso. Degli ingressi totali sono stati quasi 2.000 i biglietti staccati in Biblioteca Reale, che fino al 17 settembre ospita nei suoi cavò intorno a Leonardo, disegni italiani del Rinascimento, che vede protagonista il celebre autoritratto. Insieme a parte della straordinaria collezione di disegni, frutto degli illuminati acquisti del re di Sardegna Carlo Alberto. Dopo la chiusura del 16 di agosto i musei reali, così come la mostra intorno a Leonardo, tornano visitabili dalle 10 alle 18. Venerdì 18 agosto prosegue inoltre l'appuntamento con Reale di Sera, l'apertura serale straordinaria che fino al 6 ottobre prevede l'accesso ai musei reali fino alle 22.30, con ultimo ingresso alle 21.30.